L'ho scritto nel settembre scorso perché girare tanto ci porta tanta solitudine e allora è arrivato un jacon sulla mia veranda, io mi sono affezionata a questo animale che il giorno dopo è morto, sono ammazzata così male che l'ho scritta questa canzone che è dedicata a tutte le persone che incontriamo durante i nostri viaggi No, non voglio dire per noi, non lo dirai, che toccatevi, 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 sempre di corsa Voglio dire che noi non abbiamo mai tempo di approfondire Che non tu non prendi mai, ma perché? Perché è il camozzo Ma basta Il camozzo Il camozzo Il camozzo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti